Ciao, sono Alice! Come ogni giovedì è uscita l'anteprima Lidl. Vediamola subito! Se vuoi scoprire tutti i segreti dei volantini e fare i tuoi acquisti in modo ancora più consapevole, visita anche il mio blog su TrovaVolantini. Vuoi vedere un altro volantino? Scoprilo subito su TrovaVolantini.it Vuoi essere tra i primi a conoscere le offerte più convenienti? Iscriviti al mio canale Telegram e non perderti neanche un'occasione! Grazie a tutti! Che ne pensi di queste offerte? Scrivi nei commenti e aiuta gli altri a scegliere prodotti migliori! E tu? In quale negozio vai? Scrivile nei commenti! Ciao! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.